Sesto casting qui a Mistopolini, oggi davvero ci sono delle aspiranti Miss davvero molto belle come l'aspirante Miss numero 57 Sì Nome? Giulia Podrecca Giulia, Giulia io non so se tu hai notato ma ci sono due ragazzi qua di fianco a noi che ti guardano così Non avevo notato, no non avevo notato L'ho notato io però, va bene, quanti anni hai? 18 Oh sei molto giovane, 18 anni, da dove vieni? Cervignano Da Cervignano del Friuli, provincia di Udine Udine, sì Ho capito, cosa fai di bello? Ho appena fatto la matura quindi adesso sono disoccupata per un periodo Disoccupata, hai dato un esame, è importante Sì, sì, sì Non si sa com'è andato no? Sì, sì, si sa Cosa? Com'è andato? 85 85 È andata bene? Sì, sì Non ci lamentiamo No, 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 sono contenta Va bene, allora 18 anni, cosa vorresti fare adesso visto che gli studi sono terminati? Intraprendere un altro percorso di studi o iniziare a lavorare? No, io vorrei cercare di entrare a Triestra, a scuola per interpreti Se si riesce, non lo so, perché è molto difficile So che è a numero chiuso Sì Conosci il rettore di questa università? No Eh? Vuoi che ci parlo io? Magari Vuoi che ci parlo io? Magari Ok, va bene Ti piacerebbe fare l'interprete? Sì, 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 molto Bello, un bel lavoro Sì, mi piace molto viaggiare Perché lì si viaggia molto Eh, sì Il tuo viaggio più bello qual è? Quello che devo ancora fare Quello che devi ancora fare Che bella risposta, che bella risposta Quello che devi ancora fare Però quelli che hai già fatto quali sono? Sei già andata da qualche parte? A Londra, a Parigi, a Berlino, ho girato abbastanza Capito Bene, bene Senti, sei molto bella Sei molto giovane Benvenuta qui a Mistopolini Tu sei fidanzata? No No, come l'ha detto No Perché noi abbiamo la sezione mister Eh Sei troppo forte Allora, io lo so che tu in realtà ti sei innamorata del nostro tecnico Del nostro camera Eh, bene sì C'è biondo, occhio azzurro, alto un metro e novanta Cioè, cosa vuoi? Sì Sta mentendo spuderatamente Leo Va bene, quella è la telecamera Adesso puoi dire e salutare chi vuoi No, non saluto nessuno Non so bene così No, ok, non ti arrabbiare Ok Tra posto, in bocca al lupo Grazie Ciao, bello Ciao Ciao